Nel video, si vede una donna che cade a terra, rovinosamente, con la faccia in giù, dopo essere stata colpita da un cavallo della guardia reale. L'incidente ha suscitato scalpore ma c'è da dire che non è la prima volta che accade. Per chi non lo sapesse, ogni anno milioni di visitatori scattano foto ricordo in prossimità di Buckingham Palace, all'esterno del quale si trovano le guardie reali, proprio per proteggere il palazzo. Non si tratta di personaggi cerimoniali, infatti le guardie a cavallo sono dei veri soldati. Il loro compito è di rimanere impassibili ad ogni evento, ma hanno il permesso di urlare e sguainare la spada se qualcuno adotta un atteggiamento minaccioso. I cavalli sono addestrati abilmente, ma a tutela della sicurezza delle persone vi sono cartelli che invitano a non avvicinarsi troppo. Nei cartelli c'è chiaramente scritto attenzione, i cavalli possono scalciare o mordere, grazie, ed è quello che purtroppo è successo ad una donna. Nel video si vede chiaramente che si avvicina troppo al muso del cavallo della guardia reale. L'animale la colpisce proprio per allontanarla, e la donna perde completamente l'equilibrio. Cade a terra, col viso all'ingiù, anche se fortunatamente non si è fatta molto male. Alcuni turisti la soccorrono, e le danno una mano a rialzarsi, mentre la guardia reale rimane impassibile, eseguendo gli ordini imposti da Buckingham Palace. Grazie. 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 Grazie.